Buongiorno, buonasera, non lo so a questo punto. Allora Stefano è riuscito a liberarsi dai tanti impegni che aveva e quando l'ho contattato ha detto ci sono, non posso mancare un appuntamento ovviamente con la storia. Allora entriamo Stefano, voi avete preso la società nel 1983, parlo della tua famiglia, e la cosa importante iniziale è stato che il tuo grande papà ha detto il Piacenza Calcio lo gestiremo come si gestiscono le società. Ecco, nell'83 era una cosa un po' strana da sentire, ma poi alla fine è stato così per lui e anche per il futuro del calcio. Ma io credo di sì, credo che questa è sempre stata la sua filosofia, non dimentichiamo mai che mio padre non ha mai accettato di essere chiamato presidente, volevano che lo chiamassero ingegnere, proprio perché lui alla fine era un imprenditore, un imprenditore che aveva la sua visione, come tutti credo gli imprenditori di successo, e voleva gestire la società Piacenza Calcio come una delle tante società che avevamo. Per cui lui ha continuato con questa logica e chiaramente si è accerchiato di persone che avevano tantissime qualità, da quelle professionali a quelle umane, che credessero nel progetto e che potessero dare tutto quello che potevano dare al Piacenza. Non tanto come Piacenza Calcio, perché per noi Piacenza, come tu sai, credo che la gente lo sappia, Piacenza rappresenta una realtà che è la città, e questa è la squadra della città che rappresenta il punto più importante, perché noi non stiamo portando in giro il Piacenza Calcio, stiamo portando in giro la città di Piacenza, con il nome, con la sua immagine. Tu sai che quando noi abbiamo preso in mano Piacenza Calcio, Piacenza era una città lombarda, hanno conosciuto dopo che lo eravamo in Emilia, fieri di essere emiliani. Per cui credo che questo fosse l'impatto maggiore che mio padre voleva dare, era gestire una società con una forma di gestione uguale identica a tutte le altre, per cui attento ai bilanci, attento alla struttura, attento a quello che si faceva, costruendola dal piccolo, con il settore giovanile, e contornandosi di uomini estremamente validi, uomini che oggi non ci sono, uomini che non sono presenti, uomini che hanno contribuito all'arrivo di Marchetti, di Cagni, che sono stati due elementi fondamentali, senza togliere niente a nessun altro, nel senso che tutti sono stati fondamentali. Sicuramente questi sono stati gli uomini più rappresentativi del grande trionfo che c'è stato nel 1993. Per cui, sì, questo era solo il gestire, non sapeva fare in una maniera diversa, credo che sarebbe stato un grande errore. Questo è un errore per tutti quei presidenti che ancora oggi gestiscono il calcio solo con il cuore, perché spesso all'interno poi fanno dei disastri. Le società vanno gestite come tali per lui a dare continuità alle società. Ecco Stefano, per il papà il calcio non era una passione e non era una malattia, ma cos'era secondo te per lui? Questa è una bellissima domanda, perché adesso posso rispondere, mi spiace, avrei preferito non rispondere, perché avrei preferito che il padre ci fosse io. Il padre al calcio era una passione, gli piaceva, gli piaceva, gli piaceva tantissimo, però era un uomo, come ho detto prima, un impredittore che sconceva come tutti noi, attività di tutti i lati del mondo, per cui spesso gli stavi impegnati, però con grandissima responsabilità per Piacenza. Lui ci teneva tantissimo alla città in cui viveva, ci teneva tantissimo a Piacenza, e per cui lui si è innamorato del Piacenza calcio, non andava a vedere molto spesso alcune parti della partita, perché per me li soffriva, li soffriva a livello emotivo, però lui era forse il primo grande tifoso del Piacenza, nel vero senso della parola. Questo possiamo togliere oggi come mito, che dicevano che non era uno attento, una persona che si lasciava andare. Non si lasciava andare, ma nel tutto il senso offriva molto. Stefano, a questo punto la domanda che più o meno oggi si fa a tutti. Il 13 giugno del 1993, voi da dove avete seguito la partita e quale è stata la reazione del fischio finale? Tu puoi solo dire che ascoltavi me di Radio Sound, questa ovviamente è la prima risposta. Eravamo a casa dei miei genitori, eravamo tutti lì a guardarla, a sentirla, a soffrire tutti quanti. Devo dire che quando è finita la partita, al di fuori della prima felicità c'era la felicità di aver ottenuto un risultato fantastico per Piacenza. Ci abbia messo un po' a crederci, ogni tanto ci toccavamo per dire vero, però fondamentalmente credo che sempre con lo stesso equilibrio con cui abbiamo accettato grandissime vittorie e grandissime sconfitte. L'importante era cosa si faceva il giorno dopo. Grazie Stefano, un abbraccio, grazie per la tua partecipazione, un saluto da tutti noi. Grazie a voi, un saluto a tutti e vorrei un saluto grande a tutti questi meravigliosi attori che hanno permesso questa grandissima promozione in Serie A, per cui tutti i giocatori, a Marchetti, a Cagni, a tutti quelli che ci sono ancora e grazie per quello che avete fatto per la nostra città. Grazie ancora, un applauso.